Bene, adesso passiamo a un'altra verticalizzazione e penso tra l'altro che ci personalmente o a qualche appunto ci siano diversi punti anche di forte connessione tra un certo tipo di verticalizzazione e quello che andremo a vedere. Forse la differenza, ma ce lo dirà Ivan a cui adesso passo subito la parola, sia che Future Tech Accelerator ha una storia e quindi un track record di cui ci ha appena parlato e immagino che invece Design Tech andrà a esprimere da partire di quest'anno, anche se so che già c'è tutta un'attività pregressa, andrà a esprimere la propria vision, la propria mission. Passo la parola subito a Ivan. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io scusa un po' di problemi con la voce, ho provato a recuperare ma non ce l'ho fatta. Allora, mi fa molto piacere ospitare qui questo workshop del cluster Made in Italy a cui abbiamo aderito con entusiasmo nei mesi scorsi. È uno dei primissimi appuntamenti che cade alla vigilia anche dell'apertura al pubblico, del mind, che è il luogo che abbiamo scelto come casa per il Design Tech. Vi racconto brevemente qual è l'idea dicendo subito che il Fashion Tech Accelerator è un benchmark in realtà. Quello che ci raccontava Giussi ha molto a che vedere con quello che noi vogliamo fare sulla verticale del design che decliniamo come mondo dell'arredo, dal quale io personalmente provengo come imprenditore, l'architettura, il real estate e il mondo delle costruzioni. Abbiamo visualizzato l'opportunità a Milano che è già riconosciuta, apprezzata come capitale internazionale del design, di creare appunto un hub che si compone di una serie di spazi fisici infrastrutturati, di cui il primo è questo, è uno spazio di co-working all'interno del mind e il nostro spazio flagship. Forse può essere utile, avevamo preparato una presentazione di supporto. L'idea quindi del Design Tech è quella di rappresentare una community e offrire degli spazi infrastrutturati all'interno del quale si possono ritrovare per progettare insieme delle iniziative che potenzialmente possono essere disruptive per il nostro settore. Questo è il luogo che abbiamo scelto come flagship site, è una slide di master plan del mind, il padiglione che vediamo nella foto al centro è il luogo che ci ospita, ma tutto il sito del mind si sviluppa sull'Area Expo, è un master plan di dieci anni sviluppato da Land Lease che è uno dei nostri stakeholder e mira a realizzare una cittadella dell'innovazione. Ci sono i pilastri, Life Science, ci sono come presenti sul sito, come Anco Repubbliche, l'ospedale Galeazzi, è quel volume che vedete sulla sinistra, la statale di Milano si trasferirà qui, sono quei volumi che vedete sulla destra del monitor, e lo Human Technopole che è già installato nelle pertinenze di quello che era il Palazzo Italia. Non so se è in modo di discorrere la presentazione. Abbiamo scelto questo luogo, appunto davamo alcuni numeri perché è una cittadella del futuro che nasce alle porte di Milano e ci sembrava il luogo ideale dove raccogliere contributi di start-up e di aziende che vogliono creare innovazione nel settore dell'arredo, delle costruzioni e quindi del vivere fondamentalmente in spazi indoor quotidianamente, perché questo luogo è deputato ad essere poi anche un testbed naturale di tutte le soluzioni che possiamo contribuire a far nascere. Queste sono alcune delle immagini dello spazio in cui ci troviamo. Il primo spazio di co-working, oltre a questo, scorri pure velocemente, stiamo realizzando uno spazio di co-fabrication che rappresenterà il secondo pezzo di infrastruttura che compone Lab per supportare le aziende, le start-up, ma anche i designer autoproduttori nella creazione di prodotti e soluzioni innovative. Quindi, come dicevo prima, abbiamo visualizzato l'opportunità di creare uno spazio che accogliesse la comunità del design e, per assurdo, Milano, che è già un luogo altamente rappresentativo nel nostro settore, non aveva ancora un indirizzo di riferimento. Vai pure avanti, oltre a offrire degli spazi di innovazione, infrastrutturati, l'idea è quella di supportare anche con dei servizi, innanzitutto diciamo con un approccio rivolto all'open innovation, quindi dove siamo in grado di fare un assessment, un audit per le aziende che vogliono approcciare la sfida dell'innovazione anche in una logica di innovazione aperta, quindi collaborando con delle start-up, ci poniamo da questo punto di vista come un abilitatore, appunto visto che il tema di oggi è proprio quello di abilitatori di open innovation nel Made in Italy, che genera deal flow per le aziende interessate a una serie di scouting di una serie di bisogni o challenge di innovazione e ascolteremo poi la testimonianza di un imprenditore, Alberto Scavolini, CEO di Ernesto Meda, che è già partner del nostro hub, lo facciamo organizzando workshop, eventi anche per favorire networking come quello di oggi, lo facciamo caratterizzando su temi di specifico interesse dei laboratori che servono come motore di generazione di opportunità che spesso poi atterrano in dei POC, quindi delle progettualità pilota, dove i nostri spazi concepiti come design living lab divengono poi anche il luogo in cui testare con la community che è fatta di addetti ai lavori, quindi designer piuttosto che founder e quindi tech early adopter, founder di start-up, le soluzioni che nascono generando dati che sono utili sull'esperienza generata appunto dai prodotti alle aziende prima di portare questi prodotti innovativi sul mercato. Offriamo anche la possibilità di supportare la prototipazione e quindi come dicevo stiamo allestendo anche uno spazio di cofabrication e ovviamente lo facciamo investendo come si diceva prima, giustamente noi abbiamo iniziato da poco ma la volontà è quella di investire direttamente in start-up early stage nel settore del design e farlo insieme a partenari industriali e laddove diciamo identifichiamo un problema che non è ancora stato addressato da nessuna start-up, l'obiettivo è anche quello di fare venture building e quindi andare a costituire delle start-up attraendo e pescandole nel nostro ecosistema il pool di talenti che possono comporre il team affiancato da partenari industriali che possono offrire opportunità di mercato e di validazione in ambiente reale di quelle che sono le soluzioni che si vanno a sviluppare. Credo ci sia ancora una slide, eccola. Nonostante siamo partiti da pochi mesi, abbiamo già riunito un utrito gruppo di partner industriali soprattutto nel segmento dell'arredo che è quello dal quale proveniamo, Ernesto Mela che ascolteremo oggi è uno di questi ma anche nel settore delle costruzioni, GARC per esempio è anche un resident di questo spazio, è una B Corp, visto che citavamo prima l'esperienza delle B Corp, Land Lease che è il developer del sito del Mind ma anche altre partner tra cui Real Step con il quale stiamo realizzando lo spazio di cofabrication che dicevamo prima. Al nostro ecosistema partecipano anche studi di progettazione, partner tecnologici, il gruppo SCM rappresentato da CMS, ABB, VURT e ovviamente anche società come Microsoft, AWS, da SolSystem hanno scelto di essere sostenitori di questa verticale e chiaramente ci sono anche dei media partner che poi danno evidenza del percorso che stiamo facendo. Credo che, ecco queste sono alcune delle start-up e delle scale-up che abbiamo già coinvolto nelle prime iniziative realizzate, in particolare abbiamo già all'attivo due laboratori, uno sull'off-site construction, un altro sul tema dell'additive manufacturing e abbiamo realizzato lo scorso anno una call di Open Innovation sul futuro del workplace, sfruttando l'esigenza di dover allestire il nostro primo spazio di co-working e queste sono alcune delle start-up che abbiamo selezionato e poi matchato con i partner industriali che sono rappresentati in questo spazio come solution provider. Introduco in questo modo nella slide, vedete c'è anche Food Lifestyle, è una delle start-up che abbiamo associato ad Ernesto Meda per lavorare su un concept di cucina che fosse in grado di dare delle risposte agli spazi di co-working e di co-living. Quindi Ernesto Meda, un brand di alta gamma nel settore delle cucine italiano, riconosciuto, apprezzato a livello internazionale, non ancora presente con un'offerta dedicata nel mondo dei co-working, ci ha sottoposto l'opportunità di entrare in questo mondo e noi abbiamo iniziato a ragionare su chi potessero essere gli interlocutori, innovatori con cui costruire un'offerta di prodotto valida e poi quindi ascolteremo da lui quella che è la sua esperienza. Anche questa progettualità è poi atterrata nello spazio, questo luogo che ci ospita accoglie una cucina allestita da Ernesto Meda su cui è erogato un servizio di food service dalla start-up Food Lifestyle. Credo di aver un po' tracciato il quadro, magari lasciamo spazio alla testimonianza di Alberto e poi ovviamente sono a vostra disposizione se ci sono delle domande. Allora, prima di passare alla parola ad Alberto Scavolini, dico che io sono sempre impressionato dalla densità, dal livello di know-how, anche se sono abituato a vedere e ascoltare diversi case history che ci sono in questo tipo di attività, perché quello che ci ha rappresentato è di una densità impressionante, mi avviso, quindi rinnovo i complimenti e passo a dare la parola. Non devo fare granché perché Scavolini si presenta da solo quando parliamo di cucine. Sono sicuramente molto curioso di ascoltare questo concept e questa attività che state conducendo insieme. Buonasera, grazie Ivan. Ernesto Meda fa parte del gruppo Scavolini dal 1996, quindi siamo un'azienda relativamente giovane, non siamo una start-up purtroppo e mi sono rivolto proprio a DesignTech perché volevo in qualche modo esplorare il concetto del co-working e abbiamo anche fatto qualche riflessione sul co-living che ancora non ha visto un progetto cadere a terra. Grazie alla partecipazione di DesignTech ci hanno proposto varie start-up, fra cui una questa qui della Food Lifestyle con Paolo Barrichella. In realtà ne abbiamo avuto anche altre collaborazioni che ancora non sono cadute in essere come prodotto, ma stiamo ancora lavorando perché anche la sperimentazione alcune volte è necessita di tempo. Grazie alla collaborazione che abbiamo intrapreso con Paolo Barrichella abbiamo sviluppato un prodotto nato quasi per il mondo oreca, quindi il co-working, quindi per piccoli spazi lavorativi o per co-working proprio. Abbiamo pensato anche di stenderlo a Design Hotel dove è necessita di una cucina ma non funzionante tutto il giorno e soprattutto con i costi che oggi può avere l'introduzione di un ristorante, anche perché alla luce di quello che è stato del post pandemia, molte aziende hanno un po' pensato, ripensato a come affrontare il tema del poter offrire il servizio di mensa nelle aziende e soprattutto anche molte aziende oggi hanno ridotto la presenza dei propri dipendenti. Quindi diciamo il progetto, il filetom si chiama, quindi come a casa, nasce dell'idea di poter fornire una cucina dalle finiture domestiche, quindi la persona che soffresce di questo servizio deve sentirsi un po' a casa e non sentirsi in una cucina da ristorante oppure da mensa un po' asettica e soprattutto l'idea interessante che ci ha permesso di fare la differenza è il fatto di fornire un cibo di grandissima qualità ma cotto in breve tempo. Quindi era quella la differenzazione importante, questo qui lo ho portato dalla startup Food Lifestyle di Paolo Barichella. E quindi il nostro primo progetto proprio abbiamo montato da pochi giorni proprio nello spazio dove Ivan è presente al Mind nella marketing suite di Lillen Lise nel vecchio padiglione in Tieta San Paolo del Mind. E poi in realtà abbiamo già in essere un altro progetto che svilupperemo entro giugno di un altro concept, sempre più un po' in quel concetto più di co-working all'interno di uno spazio in zona certosa. Dicevo molto interessante l'esperienza perché come Ernesto mi dà siamo un po' obbligati a cercare strade diverse rispetto alla produzione di cucine, di mass market, di un mercato di posizionamento medio. Quindi mi sono in qualche modo interessato a capire come l'evoluzione del mondo del co-work e del co-living poteva in qualche modo andare avanti. Soprattutto noi abbiamo intrapreso questo percorso con Ivan in piena pandemia, quindi proprio nel momento delle maggiori riflessioni per il futuro che avevamo in quel momento lì storico. E molto interessante perché è stato interessante collaborare con queste startup che spesso hanno un'idea pensata neanche per il mio settore ma per settori diversi e affini. E' interessante portare questa commissione tra la nostra visione, il nostro prodotto, il nostro know-how e la loro visione. Quindi questa commissione devo dirvi che porta alla vera innovazione a mio parere. Quindi è molto molto interessante, è un'esperienza, devo dire che consiglio di tutte le aziende più o meno piccole, più o meno strutturate, di aprirsi all'innovazione parla da startup, da giovani ragazzi o da giovani società che possano portare una innovazione. Grazie. Io direi che ho raccolto anche in questo caso un paio di spunti su cui mi piacerebbe poi rinterrogare gli speaker in un secondo momento. A questo punto per procedere velocemente e lasciare questo spazio al dialogo, al dibattito, io passerei la parola alla professoressa Aquilani che insegna economia e gestione delle imprese all'Università della Tuscia di Viterbo e che ha studiato per lungo tempo i temi dell'open innovation e che quindi oggi ci potrà sicuramente dare una sua chiosa su quelli che possono essere il ruolo di questi attori che abbiamo ascoltato oggi nello sviluppo dell'innovazione aperta nel nostro paese. Buonasera a tutti, sì sono Barbara Aquilani, mi hai reggiamente presentato, lavoro all'Università della Tuscia, mi sono occupata di open innovation diciamo per molti anni. In realtà i vostri interventi, devo essere sincera, sono assolutamente uno spaccato realistico e interessantissimo di cosa sta avvenendo nel nostro paese. Diciamo che nella mia presentazione, adesso condividerò lo schermo, io ho cercato un po' di sintetizzare ciò che, diciamo così, quello che è il ruolo della, spero possa vedersi, quello che è il ruolo degli abilitatori e in particolare cercherò, grazie ai vostri input davvero interessanti, di inquadrare in un sistema, diciamo, di intermediari di open innovation, tutte queste esperienze, ma anche cercando di vedere un pochino quello che potrebbe essere anche il futuro, che in realtà poi voi avete già cominciato ad applicare. Diciamo che gli abilitatori di open innovation in un quadro generale, in questo quadro generale possono rientrare i parchi scientifici e tecnologici, adesso non mi metterò a spiegare o a definire ognuno di questi, i business innovation center che sono stati fondamentali soprattutto in un tempo un pochino più passato, gli incubatori di impresa che sono altre strutture che offrono spazi di lavoro e servizi di consulenza e poi invece proprio gli intermediari di open innovation che in realtà sono proprio queste terze parti dove, diciamo così, ricadono le esperienze sia di design tech che di fashion tech accelerator che sostanzialmente sono terze parti che si pongono come, diciamo così, coloro che sono in grado di, da un lato, ascoltare chi ha la ricerca di innovazione e dall'altra parte invece di trovare o delle soluzioni o quantomeno dei contatti per aiutare proprio nei processi di innovazione. Diciamo che i ruoli che poi sono inizi da quelle che sono state le vostre testimonianze, se le vogliamo un pochino riassumere, sono sicuramente quello di fare rete che è un tema molto importante anche perché gli intermediari hanno proprio questo ruolo di andare a, diciamo così, cercare tutta una serie di soggetti per fare innovazioni insieme ma anche di sollecitare questa rete, potremmo dire, a un certo punto per fornire nuove soluzioni, nuovi contatti o addirittura includere altre realtà che possano essere utili alla ricerca di innovazione da parte di una determinata impresa. E nell'ultimo intervento noi abbiamo sentito il dottor Scavolini che ovviamente ci ha fatto vedere come una realtà, una startup che non sembrava proprio tarata per il suo business in realtà è stata proprio quella utile per iniziare una nuova iniziativa. Poi c'è un'intermediazione finita il trasferimento tecnologico dove ovviamente c'è anche un ruolo più attivo, più tecnico, potremmo dire, dell'intermediario che sostanzialmente cerca di supportare le imprese che a lui si rivolgono per un'innovazione tecnologica che può anche essere un acquisto, una vendita di brevetti ma anche il finanziamento di una startup, il supporto a, diciamo così, un'innovazione tecnologica più complessa che magari si componga di tutta una serie di passaggi un pochino più complessi e che magari non vedono un solo attore come capace di avere tutte le risorse necessarie. Per esempio CY ci ha spiegato molto bene come in realtà poi per il suo processo innovativo è stato necessario creare tutta una serie di relazioni che via via si sono evoluti, creavano un sistema suo di innovazione composto da diverse realtà con diversi ruoli che collaborano tra di loro. Poi il trasferimento di conoscenze, condivisione ed esperienze che è ovviamente un, diciamo così, la capacità che devono avere questi intermediari di non soltanto fare, come potremmo dire, una lista e tenerla aggiornata di tutte le competenze, conoscenze, esperienze che si fanno per tutte le imprese che le organizzazioni, le realtà con cui si viene in contatto, ma anche di cercare di arricchirle via via, anche guardando a scenari, diciamo così, futuri. Altra funzione ovviamente è il problem solving che noi abbiamo visto in praticamente tutti gli interventi, cioè la capacità che hanno questi intermediari di andare a risolvere, ma anche a mediare, a cercare soluzioni che possano agevolare tutto questo processo con soluzioni di volta in volta create ad hoc proprio per i cosiddetti seekers, cioè quelle imprese che cercano innovazione grazie da realizzare attraverso l'aiuto di questi intermediari. E poi monitorare l'informazione e un supporto nel definire i bisogni dei seekers che rappresenta anche la capacità consulenziale che è già immersa negli interventi precedenti, che è tipica di un intermediario che ponendosi appunto come terza parte, quindi diciamo così un pochino all'esterno della realtà che si vuole sviluppare, riesce a, diciamo così, a reperire anche sul mercato l'informazione migliore e metterla a sistema, diciamo così, anche aiutando l'impresa seeker a vedere nuove prospettive e questo è assolutamente un qualcosa di importante e di valore. Ovviamente poi come funzioni ci sono quelle di servizi di comunicazione e delle altre opportunità di innovazione effette dall'intermediario, come anche la possibilità di finanziamento, di cui ci ha parlato anche la dottoressa Cannone, dove effettivamente questo intermediario mette in piedi tutta una serie di iniziative per supportare queste attività innovative anche da un punto di vista finanziario. C'è tutta ovviamente una letteratura con cui ovviamente non intendo tediarvi oggi su quelle che sono, diciamo così, una possibile classificazione di questi intermediari di Open Innovation sostanzialmente su due direttrici. Uno è l'accesso, ossia il modo in cui l'intermediario di Open Innovation collabora con la sua rete, che può essere semplicemente la creazione di contatto, come noi abbiamo sentito negli interventi precedenti, o addirittura la proposizione di una soluzione. Alcune volte è più adatto creare, diciamo così, solo il contatto e lasciare sviluppare l'idea ai partner che sono stati messi in contatto. Altre volte è più opportuno creare una soluzione per il nostro cliente e a quel punto magari affiancarlo non solo nella soluzione che arriva, ma anche nella prosecuzione delle attività di innovazione. D'altra parte, cosa si può ottenere? Si possono ottenere o semplici risorse di conoscenze oppure proprio delle soluzioni, diciamo così, a livello finale di soluzione innovativa, diciamo così. In base a queste due direttrici è possibile fare una classificazione, una classificazione che però, come risulta evidente anche dagli interventi precedenti, è una classificazione che è vero che non risale a molti anni fa, ma che è sempre meno adatta proprio per la freschezza, potremmo dire, e la capacità innovativa dei nostri intermediari e delle nostre imprese, delle nostre start-up e anche della grande ricchezza di innovazione tecnologica che può supportare tutte queste attività. Ovviamente in questo scenario di intermediari è intervenuto anche il pubblico, tra cui una dei primi è stata Regione Lombardia, che attraverso la creazione di questo intermediario di Open Innovation pubblico ha cercato di supportare le imprese che risiedevano nella sua regione all'inizio e poi ovviamente si è trovato automaticamente ad espandere la propria attività dove lo portavano le richieste dei suoi clienti. e ovviamente ci sono, diciamo così, tutta una serie di nuove attività che questi intermediari sia pubblici che privati svolgono anche in relazione alla capacità, alla necessità, diciamo così, di accedere a una maggiore servitizzazione e quindi a un maggiore contenuto di servizio da associare al prodotto e alla possibilità di usufruire di tutta una serie di tecnologie abilitanti che fanno parte dell'industria 4.0. Diciamo che per quanto riguarda la servitizzazione, scusatemi, è un'attività di management con un sistema unico, introduce un nuovo modo integrato di intendere le relazioni tra le imprese e i suoi consumatori ed è una strategia che porta ad arricchire i prodotti fisici con una serie di servizi a valore aggiunto. In questo contesto l'industria 4.0 può guidare le imprese verso la creazione di queste attività ad alto valore aggiunto, quindi può incrementare questa capacità di servitizzazione anche degli intermediari a servizio delle imprese o a supporto della servitizzazione all'interno dell'impresa e ci sono degli studi che sembrano che alla servitizzazione siano più legati per esempio le tecnologie del cloud computer e dei big data. Mentre invece nell'intervento che noi abbiamo ascoltato prima abbiamo sentito parlare nell'ecosistema di design tech di un additive manufacturing che è uno delle altre tecnologie abilitanti insieme per esempio all'internet of things o all'intelligenza artificiale che via via hanno necessità di essere introdotte all'interno di questi sistemi di open innovation e anche all'interno dei business model e degli intermediari di open innovation. In effetti diciamo che questo tema del business model delle imprese che innovano ma anche degli intermediari che supportano l'innovazione delle imprese su logiche di open innovation è un tema molto interessante e diciamo così anche molto recente e che merita sicuramente molta attenzione. È molto recente quindi in realtà noi che cosa possiamo vedere? che se noi studiamo quelli di origine pubblica che è più facile magari accedere noi vediamo che in realtà la value proposition che hanno deciso di proporre questi intermediari sono quelli di modificare un sistema invece di prestare semplicemente dei servizi all'innovazione. Cosa significa? Che in realtà noi lo abbiamo già sentito negli interventi precedenti non si tratta di un intermediario che ha intervenuto, ha dato una risposta e poi ha uscito ma si tratta di una nuova forma di collaborazione in cui si è parte di un'innovazione in cui diciamo l'intero sistema cambia includendo anche soggetti che prima erano esclusi e formando delle collaborazioni che vanno veramente un po' oltre i settori. D'altra parte ci sono delle organizzazioni e della struttura delle operazioni che fanno emergere delle modalità di organizzare questi sistemi di innovazione anche molto più smart, molto più fluidi potremmo dire in un certo senso perché in effetti non si tratta di processi ben stabiliti ma sempre più anche perché c'è l'apporto della tecnologia, la capacità di avere contatti molto rapidi in diverse parti del mondo ma anche la capacità creativa delle nostre imprese di creare un sistema che in realtà si modifica e si rinnova senza soluzione di continuità e creando sempre nuove innovazioni che non rimangono poi ristrette in un singolo settore. Abbiamo visto ad esempio nell'ecosistema design tech che questo operatore in realtà sta operando in molti settori e fa un'opera di cross fertilization la possiamo chiamare per, diciamo così, a supporto di tutti questi settori di tutte queste imprese che in realtà operano in settori che tradizionalmente sono considerati come diversi tra di loro. Ovviamente poi queste risorse e competenze chiave in questa nuova visione con questi nuovi simoli sono conoscenze tecniche sia a livello di singolo attore ma a livello per esempio anche di singola industria. Abbiamo visto infatti l'acceleratore nel session che si dedica a quel particolare settore che sono assolutamente delle competenze chiave ma che ancora una volta usufruisce diciamo così sia di una legittimazione che gli viene dalle sue operazioni passate sia dai successi che ha già, diciamo così, messo in portafoglio che anche dalla sua capacità di rivolgersi anche a mercati diversi abbiamo visto infatti che le nuove sedi sono in diversi paesi e a ampliare la sua sfera di influenza in un contesto che è proprio basato sulla capacità di acquisire sempre più risorse e competenze chiave. Ovviamente in questo business model non poteva mancare una riflessione per quanto riguarda la capacità che hanno questi operatori pubblici ma anche privati, quello studio partiva da una considerazione di operatori pubblici ma abbiamo sentito che ovviamente le stesse considerazioni se non diciamo così più spinte e più di successo possono essere fatte nel caso di quelli privati sono la capacità che hanno questi operatori di generare dei, diciamo così, dei ricavi che sono generati a livello di attività di mercato e che sono sempre crescenti e abbiamo visto che poi vanno ad innestarsi in un sistema di finanziamento di questa startup che quando questi operatori lasciano le imprese sono in grado di, diciamo così, mantenerli in vita e farli sopportare da organismi che, diciamo, riescono a supportarli in una fase diversa della loro vita. Cosa posso dire in conclusione? Che in realtà il mondo dell'innovazione oggi più che in passato è in fermento sia da un punto di vista privato che poi è il motore, diciamo così, che è decisamente importante per l'imprenditoria italiana e che gli abilitatori, gli abilitatori e gli intermediatori sono chiamati a svolgere un ruolo sempre più importante, secondo me per due diverse motivazioni. Per il ruolo centrale nel creare dei sistemi di innovazione complessi, reattivi, agili, efficaci ed efficienti, i casi di oggi ne sono un esempio un esempio eclatante dove si sposano considerazioni di business, di strategia, di attrazione del cliente, di nuovi scenari di innovazione, nuove relazioni esplorate e poi il ruolo di supporto da prestare a tutti gli attori in una transizione digitale complessa e che però va tagliata su misura per ogni singola impresa e organizzazione come l'intervento che parlava dell'ecosistema di design tech ci ha fatto rilevare, quindi cercando di supportare ogni singola realtà e ogni singola relazione in un sistema un po' meno più complesso e creando di volta in volta un sistema, diciamo così, innovativo ad hoc per queste realtà. Per svolgere con successo questo ruolo centrale degli intermediari, diciamo che anche loro dovranno un po' modificare il loro business model, lo abbiamo visto, stanno anche loro integrando, diciamo così, nuove tecnologie, ma stanno anche ampliando i loro spazi di conoscenza e potranno cambiare e quindi dovranno anche loro un po' cambiare le pelle per incorporare sempre meglio questo ruolo centrale. Quindi se le imprese possono essere considerate, come fanno due studiosi di imprese importanti come il Locus dell'innovazione per l'intera economia, gli abilitatori di Open Innovation secondo me possono essere considerati una parte, una parte a valore aggiunto importante della linfa vitale se sono effettivamente capaci, come nei casi di oggi, di svolgere la loro funzione centrale nel sistema di innovazione.